Un paio di settimane fa sono stato a Bellinzona in Svizzera italiana, città famosa per i suoi tre castelli di epoca medioevale, patrimonio unesco, ma noi eravamo lì per vedere l'altra grande attrazione di Bellinzona, il Rabadan, il carnevale, così dopo un giro per i castelli ci siamo goduti due ore e passa di carri, bande e sfilate varie, vi lascio qui qualche immagine e vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale, buona visione! Un paio di settimane fa è un paio di settimane fa è un paio di settimane fa è un paio di Sfixificare Sfixificare Sapa! Voglio volar dal cammino, nel cielo lontano, alzare al fianco, viva all'ogano, alzatevi volare, dove mi brida il cuore, un sanità e motore canta la canzone, che è la mia cosa. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!